Non pensavo si potesse scatenare tutto questo clamore. La verità è che io li conosco molto bene. Certo. Sia Matteo che Davide. Sì, si capisce. E voglio molto bene ad entrambi. Non l'ho percepita in quel momento come un'offesa al genere femminile. Io sono una ragazza, quindi lungi da me dell'essermi sentita offesa. Ma lì per lì, dai ragazzi, andiamo avanti. E poi questa cosa, finché restava lì, cioè tra te, loro e il pubblico che di solito vi segue e quindi vi conosce, non sarebbe mai successo niente. E poi sicuramente viene estrapolato il senso che gli si vuole dare. Perché chi li conosce, anche solo dalla televisione, sa che sono due bonaccioni. Era tutt'altro che una frase denigratoria, ecco. Era una frase da bar, se vogliamo, no? Una cosa che vuoi lasciarti andare con i tuoi amici. E lo fai se sei nella totale confidenza del momento. Io ho sofferto per loro. Poi io sono così. Ho sofferto perché ho detto ok, non se lo meritano. Cioè non si meritano di tutto questo accadimento.